Ciao a tutti! In questo video farò il kit di questa fatina. Partiamo dall'occorrente! Due foglie di fotocopia, ferro da stiro, forbici, colla a caldo e il kit. Nel kit ci sono le istruzioni e tutto il necessario e se vi piace trovate il link in descrizione. Mette da parte una striscia che servirà per legare i capelli alla fatina. Mette da parte una striscia. Stiro i capelli tra due foglie di fotocopia. Stiro i capelli tra due foglie di fotocopia. Grazie per aver guardato il video. Ciao! 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 Ciao!